Don Ciro di ritorno dalla GMG, dieci giorni vissuti davvero molto a pieno, i giovani sono stanchi ma felici. Sì, in effetti abbiamo affrontato diverse difficoltà, penso che l'abbiamo detto anche durante i collegamenti, ma è stata davvero una bellissima giornata, i giovani hanno vissuto pienamente, con pazienza, affrontando le difficoltà, ma vivendo l'esperienza, radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede. La gioia, la serenità e quindi anche l'impegno di comunicare ai loro amici questa bellissima esperienza di Chiesa, di Chiesa universale, ma soprattutto l'incontro con Gesù Cristo insieme a tanti altri giovani. È stata davvero una iniezione di forza, di energia, di grazia. E speriamo che questa esperienza venga testimoniata ai nostri giovani, così anche all'interno delle nostre comunità possiamo iniziare questo nuovo anno pastorale insieme con il nostro Vescovo Giuseppe. Il 24 settembre avremo anche un incontro diocesano con tutti i giovani per condividere questa esperienza e per vivere anche l'inizio di un nuovo anno di testimonianza che vede i giovani protagonisti di questa nuova evangelizzazione. Quindi finisce questa GMG che però rimane nei cuori dei giovani e che rimane comunque un punto di partenza? Sì, diventa davvero un punto di partenza, di un'esperienza fatta della serenità nella gioia con l'impegno di essere sale, di essere lievito e di essere luce, così come ci chiede Gesù di testimoniare il suo amore a tutti coloro che incontriamo sul nostro cammino.